E no, signori, gettatevi nel vottice delle deni! Non andiamo a 80 all'ora, non andiamo neanche a 50 all'ora, infatti non facciamo neanche i 25 all'ora. Ma quello segna 80. E non te accorgi che è tutto? Oh, davvero, bevici su, non è... Solo il colonnello Pantaleo Bixby, di Lipica Frog, dello Stato del Texas. Oh, benvenuto colonnello, vi abbiamo riservato l'appartamento migliore, spero che vi piaccia. Molto gentile. Il mio segretario, signor Chester Roy, e questo è il mio maggiordomo, valletto e factottima generale, Ports. Portami di sopra questi begali e non sarai più povero. Sì, signori. Come al solito mi fichi sempre nei guai. Avanti, bellezza, dov'è il gruzzolo? Non ce l'ho, credetemi. Quel tipo di segretario l'ha preso, vero? Sì, signor Wright l'ha portato giù. Bene, ha avverto che c'è un morto in vista. Dov'è un Wright? Quello no, da Pottami di Susi. Voi lo sapete po' che l'avete rubato a sua madre. Vi diamo. Oh, 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 oh. Come on. Come on.